ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere cosa ti sta per accadere nel settore relazioni relazioni rapporti in genere quindi useremo il mio nuovo mazzo di carte gli oracoli dell'amore quindi vedremo i rapporti affettivi ma affettivi in tutti i sensi può essere un rapporto con un collega o gli amici o un fratello o un genitore con l'amore della sua vita con la persona che ti piace anche se tu sei single quindi vuole essere proprio un video aperto a tutti non darò tempo in questo video quindi avrà validità questa previsione dal momento in cui tu lo vedrai anche fossimo nel 2030 mi raccomando va bene useremo tutte carte create da me trovi giù nel nell'info box nella descrizione del video tutti i link per andare ai video a vedere a vedere queste carte comunque sia se ti interessano puoi mandare una mail direttamente a me le carte di penelope chiocciola gmail.com e mi puoi chiedere tutte le informazioni del caso nel caso di questo nuovo mazzo c'è un video che ho appena pubblicato lo trovi sul canale ma ripeto c'è il link giù in descrizione o in fondo a questo video useremo gli oracoli dell'amore gli altri oracoli volume 1 sempre carte che ho creato io e i miei tarotti creati proprio da da me ok io direi di partire subito e andiamo a vedere che novità ci sono nelle relazioni e nei rapporti in genere andiamo ciao leone benvenuto allora dunque in questo nuovo video partiamo dalle graziosissime carte oracoli dell'amore allora andiamo a chiedere un po i rapporti affettivi in genere cosa ti promettono ok cosa ti porteranno nel prossimo futuro non darò tempi a questo video quindi avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai tu nel senso questo video vale se sei nato sotto il segno del leone oppure se hai l'ascendente leone la luna leone o venere in il leone ok andiamo un po vedere i rapporti affettivi che non sono necessariamente uomo donna ma possono essere anche fra amici fra genitori figli insomma e via e via dicendo allora vediamo un po per il segno zodiacale leone leone che novità vedete per il leone ok incontrerai qualcuno molto presto quindi ti promette un nuovo incontro o di un nuovo non lo dice dice qualcuno quindi magari già lo conosci però ti mette sul chi va là qui ci sono tutte le bandierine rosse che ti avvisano del pericolo perché ti dice è una trappola vuole ad escarti quindi vediamo un pochino chi è che intenzioni a leone per il leone segno zodiacale del leone guarda di nuovo ti sta ingannando attenzione leone attenzione cioè è una trappola ti sta ingannando quindi io non amo quando mi escono ste carte però insomma ben venga un avviso no meglio saperlo prima che soffrire dopo qui c'è un ritardo ma arriveranno le risposte e cercavi guarda io non so di chi ti stanno parlando magari si parla e ne so io di un amico di una mia o di un collega cioè qui tu lo saprai tu lo saprai se però vedi qui c'è questo incontro con questa persona un messaggio insomma facciamo un po la tara visto siamo tanti comunque qui tu avrai mettiamola così tu avrai a che fare con questa persona persona che cercherà di abbonirti insomma capito però questa è una trappola ti sta ingannando quindi sembrerebbe che non sia una persona poi troppo troppo sincera nei nostri confronti ora qui tu avrai da aspettare o tu hai aspettato un po di tempo perché parlano di ritardo quindi in ritardo ma sicuramente arriveranno le risposte a che tu cercavi che tu stavi cercando quindi qui è come se qualcosa tu dovessi venire a a sapere questo è quello che paiono dirci queste carte andiamo a vedere con i tarocchi ok andiamo a vedere con i tarocchi si fa interessante di avere a vedere con i tarocchi segno del leone di chi ci stanno parlando cosa accadrà al segno zodiacale del leone nei rapporti affettivi vediamo nell'amore insomma nelle relazioni di genere segno zodiacale del leone guarda il 7 di spade che è uscito capovolto io credo che qui veramente tu venga a sapere di un inganno è qui tu viene a sapere o qualche cosa qualcosa che ti viene comunicato lotto di bastoni che anche lui è uscito a testa all'ingiù qui potrebbero esserci notizie lo scoprire un qualche cosa che non ti farà molto piacere il fante di bastoni il 4 di poi magari è già successo è per amore di dio ecco il 4 di coppe per il segno zodiacale del leone per il segno del leone nei rapporti nelle relazioni in genere che novità ci saranno segno zodiacale del leone segno zodiacale del leone l'otto di denari e nel taglio il cavaliere di denari interessante very 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 much interesting vediamo vediamo allora qui si dico la prima o sia bomba poi magari con te non c'entra nulla ma per alcuni di voi si qui potrebbe anche essere che tu potresti speriamo di sbagliare che non sia così tu potresti venire a sapere che questa persona t'ha tenuto nascosto un altro impegno quindi magari o è una persona sposata o comunque impegnata e te non lo sapevi non lo sapevi o magari insomma non te l'ha detta così come va detta perché qui è come un gettare la maschera capisci che ti voglio dire quindi è come un gettare la maschera un far venire fuori ed è un gettare la maschera un venire a conoscenza un capire un venire a sapere vedi queste risposte famose te tu cerchi le risposte ma la risposta che ti avrai non ti piacerà questa te la dio proprio me se la devo dire ecco a me piace prendere in giro la gente poi posso sbagliare eh per carità avessi la palla di vetro saindo sarei sarei incorniciata da qualche parte quindi prendi tutto con le pinze questi sono interattivi per l'amor di dio ho capito leone però insomma ecco andiamo a vedere cos'altro per il leone vediamo un po' qui ci potrebbe essere veramente a quello che ti ho detto quello che ti ho detto quindi un venire a sapere un qualche cosa che ci piace poco ci potrebbe essere anche a dire il vero tipo un'interruzione è un prendere una pausa un distacco da questa da questa da questa persona qui ci sarà un cambiamento che insomma ti piacerà poco anche non dovesse essere che tu viene a sapere qualcosa eccetera però insomma un litigio un cambiamento in negativo con questa persona perché vedo anche il litigio capito qui ci potrebbe essere c'è poco da fare comunque sia quello che c'è di bello quello che c'è di positivo è che le risposte che cercavi ti arriveranno però vedi che qui c'è l'inganno e qui ho visti triangolo quindi qui c'è un qualcosa che tu non sapevi fammi sapere leone vediamo gli oracoli cosa aggiungono gli oracoli a questa vicenda poi non si sa di che ti stanno parlando è non si sa questo tu lo devi capire se da come si parlano vediamo per il leone il mio cane che russa ancora oh signore benedetto allora andiamo a vedere per il segno gioiacale del leone nelle relazioni in genere qualcosa ti verrà chiarito è qualcosa ti viene proprio agli occhi allora andiamo a vedere che nuvola allora segno zodiacale leone segno zodiacale del leone la difesa qualcuno è sulla difensiva quindi o voi o l'altra persona quindi magari già insomma qualcosa ti ha vissuto un passato e tutti i fili fuoco forse magari proprio di lui comunque vediamo allora abbiamo detto la difesa vedi la violenza la strategia l'unione e le memorie allora qui ci potrebbe essere vedi allora qui c'è un qualcosa o anche un brutto litigio un brutto litigio che potrebbe accadere con questa con questa persona ok un brutto litigio potrebbe ferirti diciamo così proprio anche a a parole con quello che dirà con quello che manifesterà fatto sta che qui vedi ti sta ingannando una trappola quindi attenzione non so se tu sta parlando con questa persona non solo per motivi d'amore ma per altri motivi insomma te l'ho detto prima attenzione perché qui insomma potrebbe giocare su due tavoli quindi non fidarti nel senso sono arte questo ve lo dico mi sfiafo a forza di dirvelo per l'amor di dio quindi non si giudica una persona solo da un giro di carte però insomma fate la vostra vita tranquillamente però tenete una pulce nell'orecchio ecco un penelope grillo parlante e ti insinua il dubbio in un orecchio poi state andare a cercare nella realtà nella sua vita se quello che ti dico può combaciare con la tua realtà ovviamente va bene io sono qua per ascoltarti per ascoltarti per leggerti quindi iscrivimi nei commenti e fammi sapere ok io nel frattempo ti aspetto sempre qua al mio prossimo video ciao leone eccoci qua vi lascio ai miei no 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 Grazie a tutti.